La violenza sessuale deriva dall'alterazione del metabolismo che conduce a poco a poco l'essere umano a compiere questi terribili crimini. La violenza sessuale deriva dall'alterazione del metabolismo. Io non credo di avere altro da aggiungere se non far di nuovo presente a questo illustrissimo tribunale ai fini della decisione l'aperizia del dottor Meucci riguardante lo stato mentale della signorina Giun Mancinelli. Ho prescritto una terapia psichiatrica logicamente coadjuvata da farmaci. Questo è l'articolo 533 del codice di procedura penale. In cui ci dice la mia denuncia. Io spero che possa essere utile anche ad altre donne. per avere il coraggio che serve in questa situazione. Io spero che possa essere utile anche ad altre donne. Io spero che possa essere utile anche ad altre donne. Io spero che possa essere utile anche ad altre donne. Spero che possa essere utile anche ad altre donne.